Ciao a tutti ragazzi, qua FedeTutorial e sono tornato con questo nuovo video dove oggi vi andrò a far vedere come aumentare la durata della batteria e velocizzare il vostro iPhone, iPad o iPod Touch con iOS 9. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Come potete vedere io sono su iOS 8.4 perché potete vedere che ho il jailbreak, infatti almeno per ora il jailbreak per iOS 9 non c'è e l'ho detto anche per rispondere ai molti commenti che mi chiedono ogni giorno se esiste un jailbreak per iOS 9. La risposta è no e io ho sidia perché come ho già detto sono su iOS 8.4. Comunque sia è la stessa identica cosa perché tutti i consigli e i suggerimenti e le impostazioni che vi andrò a far vedere in questo video funzionano tranquillamente anche sul nuovo iOS 9. Quindi non farà nessuna differenza perché tutto quello che vi andrò a far vedere in questo video con iOS 8.4, ripeto, funziona anche con iOS 9. Detto questo partiamo appunto subito con i suggerimenti. La prima impostazione fondamentale che vi consiglio di cambiare è appunto la nuova Power Mode che Apple ha inserito su iOS 9. Per attivarlo basterà semplicemente andare nelle impostazioni, andare poi nell'opzione batteria e qui potremmo trovare una nuova opzione chiamata Power Mode. Può darsi che la vostra schermata sarà un po' diversa perché io ho aggiunto questa schermata tramite un tweak, perché altrimenti avendo iOS 8.4 non potevo farvi vedere questa funzione. Comunque sia è la stessa identica cosa, basterà andare in impostazioni batteria e qui troverete una spunta ad attivare che si chiama Power Mode. Abilitando questa Power Mode andrete a risparmiare davvero tantissima batteria. A detta di Apple guadagnerete appunto 4 ore di autonomia, ora non so se questo sia effettivamente vero, comunque vi risparmierà sicuramente molta batteria e vi andrà in poche parole a disattivare delle funzioni, come ad esempio l'aggiornamento di app in background, oppure i dati push di cellulare, eccetera, che comunque poi andremo a cambiarli manualmente sempre in questo video, ma la cosa che vi andrà a far risparmiare davvero tanta batteria, e purtroppo questa opzione però va un po' in contrasto con il velocizzare il dispositivo, perché attivando appunto la Power Mode andrete ad utilizzare solamente un 40% del vostro processore, quindi capite bene che la batteria aumenterà notevolmente, però di conseguenza la velocità del vostro dispositivo diminuirà. Alcune animazioni saranno molto più lente, però questo appunto è normale, con solamente un 40% di processore, quello che vi consiglio io è di attivare questa Power Mode solamente quando siete ad esempio sul 20% di batteria rimanente, ma vi serve ancora molta autonomia e quindi ecco, vi consiglio di attivarlo in quel caso, in modo che anche se le animazioni saranno un po' più lente, eccetera, comunque sia non è che fa molta differenza, però guadagnerete davvero molte ore in più di autonomia sul vostro dispositivo. Il secondo passaggio che vi suggerisco è di andare sempre nelle impostazioni, questa volta andare su Generali, cliccare poi su Aggiornamento App in Background e disattivarlo. Di default sarà appunto attivato automaticamente e qui troverete tutte le vostre applicazioni che utilizzano l'aggiornamento App in Background, ovvero si aggiornano di continuo anche se effettivamente non le state utilizzando. Ad esempio, se l'abilitate per Facebook, quando andrete a riaprirlo sarà automaticamente già tutto aggiornato, perché senza che voi teniate l'applicazione aperta, questa si andrà continuamente ad aggiornare. E questo sforzo, diciamo, continuo dell'applicazione fa consumare davvero molta batteria e anche diminuire le prestazioni del vostro dispositivo. Se però avete necessità appunto di attivarne qualcuna, vi consiglio appunto solamente di disattivare quelle che non utilizzate, mentre se come nel mio caso appunto non volete l'aggiornamento in Background per nessuna applicazione, vi basterà disattivarlo dal pannello principale e appunto avrete disattivato completamente l'aggiornamento App in Background, risparmiando sia molta batteria che aumentando le prestazioni del vostro dispositivo. Ritorniamo di nuovo nelle nostre impostazioni ed andiamo questa volta su Notifiche. Anche qui vi consiglio di disattivare quello che non utilizzate e appunto le applicazioni per le quali non volete le notifiche. Questo anche andrà a risparmiare davvero molta batteria perché non riceverete sempre le notifiche per tutte le applicazioni che non vi interessano, ma solo delle piccole notifiche per le applicazioni preferite. Nel mio caso ad esempio non voglio che l'applicazione Suggerimenti di Apple mi mandi delle notifiche, quindi basterà cliccarci e disabilitare appunto Consenti notifiche. Vi consiglio di farlo appunto per più applicazioni possibili, ovvero quelle che non utilizzate, poi ovviamente se un'applicazione vi serve non c'è bisogno che la disattivate per forza, comunque sia disattivatene il più possibile per risparmiare davvero molta batteria. Sempre nelle impostazioni scorriamo in basso ed andiamo su Schermo e Luminosità. Qui vi consiglio di disattivare la luminosità automatica e settarla circa a metà in modo che la luminosità non sarà mai al massimo, ma appunto la selezionerete voi da qui e non si cambierà più automaticamente. Questo ovviamente andrà a risparmiare davvero moltissima batteria, però a volte può essere scomodo appunto non vedere delle lettere eccetera proprio a causa della luminosità. Io infatti di solito la tengo comunque automatica perché mi trovo comunque bene e preferisco ecco avere un po' meno di batteria, però avere la luminosità sempre giusta al momento giusto. Questo ovviamente è una vostra scelta, se il vostro iPhone dura davvero pochissimo vi consiglio appunto di disabilitarla, altrimenti se già dura abbastanza vi consiglio appunto di lasciarlo attivato ed applicare solamente gli altri suggerimenti. Sempre nelle impostazioni sotto a schermo e luminosità troveremo la sezione sfondo. Questo spesso è sottovalutato dagli utenti ma a volte può aiutare davvero molto. Quello che vi consiglio di fare è attivare uno sfondo statico e non uno dinamico. Potete scegliere tranquillamente una foto o comunque i sfondi predefiniti di Apple, comunque utilizzatene uno statico per risparmiare batteria e velocizzare ulteriormente il vostro iOS 9. Ora un altro piccolo suggerimento che può sembrarvi stupido ma secondo me alcuni lo sottovalutano. Apriamo quindi il Control Center e qui vi consiglio innanzitutto di disattivare l'Airdrop quando non vi serve ed attivarlo semplicemente quando dovete scambiare qualche file con un altro dispositivo Apple. Questo perché attivandolo inutilmente andrete a sprecare davvero molta batteria. Stessa cosa riguardo il Bluetooth, se non lo utilizzate vi consiglio di disattivarlo e poi l'ultimo particolare vi consiglio di disattivare la connessione dati quando siete connessi a Wi-Fi e anche l'operazione inversa. Quindi se non siete connessi a Wi-Fi vi consiglio di disabilitarla ed attivare la connessione dati. Mai attivarli tutti e due contemporaneamente perché sarebbe uno spreco inutile di batteria. Ora torniamo di nuovo nelle impostazioni. Ora richiamoci in Generali, andiamo su End Off e App Consigliate e vi consiglio di disabilitare End Off se non l'utilizzate. Quindi se non avete mai utilizzato la funzione End Off non c'è motivo di lasciarla attivata. Stessa cosa anche per le app suggerite perché qui vi andrà a fare sempre una scansione di dove vi trovate con il vostro dispositivo e vi consiglierà delle app se troverete vicino ad esempio negozi eccetera che hanno un'applicazione sull'App Store. A volte può essere utile, io personalmente non lo utilizzo e vi consiglio appunto se siete nella mia stessa situazione di disabilitare il tutto per velocizzare ulteriormente il dispositivo e risparmiare più batteria. Poi ovviamente se vi serve non disattivatelo. Sempre nelle impostazioni andiamo su iTunes Store e App Store e vi consiglio di disabilitare gli aggiornamenti automatici. Questo perché vi andrà a consumare non solo batteria ma anche la vostra connessione dati perché andrà a scaricarvi degli aggiornamenti delle applicazioni anche se siete con la connessione 3G. Potete comunque disabilitarlo tramite questa spunta, utilizza dati cellulari o meno. Io vi consiglio appunto di disabilitarlo completamente in modo che non vi andrà mai a fare degli aggiornamenti quando ad esempio avete poca percentuale di batteria andandovela a consumare del tutto. In questo modo potrete decidere voi quando fare gli aggiornamenti manualmente. Anche qui vi consiglio se non vi serve di disabilitare poi le app suggerite. Ora andiamo su Privacy, Movimento e Fitness. Qui di default sarà attivato e se non vi serve sapere appunto le vostre statistiche per esempio nell'applicazione salute o altro vi consiglio di disattivarlo perché questo andrà ad utilizzare il vostro secondo processore dell'iPhone che è fatto apposta per calcolare tutti i movimenti eccetera. Se non lo utilizzate vi consiglio di disattivarlo che vi andrà a risparmiare molta batteria e velocizzare il vostro dispositivo. Torniamo indietro e sempre in Privacy scorriamo in basso fino a Pubblicità e vi consiglio di attivare Limita raccolta dati in modo da avere sia meno pubblicità che risparmiare anche connessione dati e batteria. Sempre nella sezione Privacy andiamo su Localizzazione e qui vi consiglio appunto di abilitare la localizzazione solamente per le applicazioni che effettivamente vi servono. Ad esempio se trovate un gioco io vi consiglio di disattivarlo perché a meno che non sia un gioco che utilizzi la localizzazione non credo ci sia bisogno appunto di lasciarla aperta e questo andrà a consumare molta più batteria perché vi andrà a localizzare sempre il vostro dispositivo quando state utilizzando appunto quella determinata applicazione. Io per alcune ovviamente l'ho lasciato ad esempio Google Maps mi serve sapere la localizzazione quindi non la posso disattivare mentre per quelle appunto che non state utilizzando vi consiglio di toglierle. Sempre nelle impostazioni andiamo questa volta in iCloud e qui stesso identico discorso quindi disattivate tutto quello che non utilizzate. Io per esempio non utilizzo molto iCloud perché preferisco fare un backup direttamente da iTunes quando mi serve vi consiglio però di lasciare come me trova il mio iPhone perché comunque è un servizio che vi serve davvero tanto per la vostra sicurezza il resto appunto fate voi se lo utilizzate e lasciatelo attivato altrimenti disattivatelo per non sprecare batteria inutilmente. Stessa cosa anche per condividi la mia posizione vi consiglio appunto di disattivarlo per risparmiare appunto più batteria. Ora torniamo nelle nostre impostazioni principali andiamo questa volta in posta, contatti e calendari clicchiamo poi su scarica nuovi dati e vi consiglio di disattivare il push. Praticamente il push vi manderà una notifica subito dopo aver ricevuto la vostra mail questo può servire se fate dei lavori e vi servono appunto delle mail urgenti quindi se vi servono non disattivatelo però andrà a diminuire molto la batteria e le prestazioni del vostro dispositivo quindi se non vi servono vi consiglio di disattivarlo e su scarica in basso vi consiglio di mettere manualmente. In questo modo le vostre mail si aggiorneranno solamente quando aprite la vostra applicazione mail sul vostro dispositivo quindi non sarà un aggiornamento sempre in background ma solamente quando aprite l'applicazione. Gli ultimi piccoli suggerimenti sono sempre di nuovo nelle impostazioni andate su generali accessibilità cliccate poi su aumenta contrasto ed attivate queste tre spunte. Questo come vedete vi andrà a diminuire la trasparenza infatti come potete vedere il control center è meno trasparente del solito e anche molto più scuro questo grazie a queste tre opzioni sicuramente sarà un po' più brutto esteticamente però andrà a velocizzare le vostre animazioni e renderle più fluide e quindi velocizzare il vostro dispositivo. Sta a voi quindi la scelta di attivarlo o meno io personalmente non lo attivo perché preferisco avere le animazioni classiche comunque sia c'è anche questa opzione. Torniamo indietro su accessibilità e clicchiamo su riduci movimento attivando quindi questa opzione come potete vedere le animazioni di iOS saranno molto più veloci non ci saranno le classiche animazioni come potete vedere anche per aprire le nostre applicazioni questo quindi sarà un po' diverso esteticamente ma vi andrà a velocizzare di molto il vostro iOS 9 e comunque sia tutti i vostri dispositivi riguardo appunto le animazioni come potete vedere sono molto più fluide ma sono molto diverse da prima. Ultimo suggerimento andate sempre su generali ricerca spotlight e se non la utilizzate come nel mio caso vi consiglio di disattivare tutto. Di default sarà appunto tutto attivato vi consiglio di disattivarlo se non utilizzate la ricerca spotlight perché questo ovviamente vi andrà a cercare su tutto il vostro dispositivo diminuendo la batteria e le prestazioni del vostro iOS mentre se ne fate uso quotidiano ecco vi consiglio di lasciarlo attivato perché ovviamente vi servirà. Quindi ragazzi questi erano i miei suggerimenti per aumentare la durata della vostra batteria e velocizzare il vostro nuovo iOS 9 ho sentito che su molti dispositivi soprattutto quelli datati lagga davvero molto iOS 9 credo comunque che con i prossimi aggiornamenti sarà sicuramente migliore ma con questi suggerimenti potrete appunto farlo già da subito. Come avete visto funziona anche per iOS 8 comunque questo video è focalizzato principalmente per il nuovo iOS 9 e quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile se così vi invito a lasciare un bel mi piace al video e ad iscrivervi anche al mio canale commentate se avete qualsiasi tipo di problema o se volete semplicemente dei chiarimenti che cercherò di rispondervi il prima possibile e di aiutarvi un po' come posso condividete il video ovunque voi vogliate con i vostri amici per aiutarmi a farmi crescere e da FedeTutorial è tutto noi ci becchiamo in un prossimo video ciao raga Grazie a tutti Grazie a tutti.